10, 9, 9, 10, 7, 6, 7, 8, 3, 2, 1, 3! In Tremila in piazza Sant'Agostino per attendere l'arrivo del 2019. Città di cultura, città elegante e soprattutto città bella. A presidare l'area gli steward insieme ai carabinieri, la polizia municipale, i vigi del fuoco, la croce bianca con il proprio personale. Tante le famiglie ma anche i ragazzi che hanno atteso a suon di musica il 2019 e dopo la mezzanotte il DJ set di Pau dei Negrita. È la prima volta che faccio un Capodanno d'Arezzo, quindi è una cosa abbastanza strana. Ci hanno chiamato degli amici che stanno organizzando la serata, tra l'altro secondo me è una bellissima serata. E sono contentissimo di fare una cosa non solo per i miei concittadini, ma anche a due chilometri da casa. Senti, il 2019 però sarà particolare per i Negrita, non posso non farti questa domanda. Perché dici questo? Di cosa stai parlando? Di cosa sta parlando? Non so di cosa stia parlando. Secondo me la signorina si sta riferendo a un appuntamento ligure che abbiamo, eppure te hai. Floreale, Floreale. Floreale, The Flowers. No, me la vivo bene, innanzitutto non è la prima volta che andiamo a Sanremo, l'abbiamo fatto a oggi, diciamo 15 anni fa. 15 anni fa eravamo ragazzi, a parte un po' più giovani, ma completamente diversi, quindi saranno due esperienze completamente diverse, questo lo so benissimo già da ora. Però me la vivo bene, perché voglio dire, non credete che ci sia di peggio nella vita? È il mio primo Capodanno d'Arezzo a casa, sono felicissimo, io amo questo stato, nettamente questa città, sono orgoglioso di essere a Repino, sono orgoglioso di essere qua con voi per questo Capodanno 2019. Un Capodanno tranquillo anche sotto il profilo della sicurezza, nessun ferito per i botti, nove invece gli interventi del 118 per persone ubriache di varie età, quindi non tutti giovanissimi. I vigili del fuoco sono invece dovuti intervenire in diversi incendi di cassonetti dovuti probabilmente a ceneri dei caminetti o allo scoppio di petardi all'interno dei bidoni. Cosa ci si augura per l'anno nuovo? Speriamo un anno un po' più ricco. Ricchezza? Un po' più di soldi? Sì. Io ho solo tanta salute e basta. Lavoro e tanta felicità. Non lo so, meglio di me stanno di sicuro, stanno andando proprio male. Di sicuro andare meglio a scuola, quello sicuro. Tanto lavoro. Se mi piace è solo amare.